Benvenuti spettatori di Le Fonti TV a una nuova puntata del nostro Instant Focus dove parleremo di sostenibilità e criteri ISG, due pilastri fondamentali per le aziende del presente e del futuro perché naturalmente d'ora in avanti le imprese non possono essere più valutate solamente per le performance finanziarie ma bisogna tenere d'occhio altri criteri, ad esempio appunto il rispetto della sostenibilità ambientale e sociale che sicuramente viene regolata da una normativa ma soprattutto deve diventare parte integrante della cultura aziendale delle nostre imprese. e ne parleremo con l'ospite che mi ha raggiunto in studio, ovvero Alessandro Toschi che è CEO and Founder di AM Advisor. Grazie dottor Toschi per essere qui con noi oggi. Buongiorno, grazie a lei dottoressa per l'invito, grazie a voi. Ecco diciamo che appunto sostenibilità e criteri ISG sono delle parole chiave per comprendere questo determinato periodo storico, io direi di partire proprio da una panoramica generale, che cosa si intende esattamente per criteri ISG e perché sono così importanti. Benissimo, allora diciamo che bisognerebbe fare qualche passo indietro per capire un po' come si è arrivati poi al tema dei criteri ISG. Per arrivare a quelli che sono oggi denominati i cosiddetti investimenti sostenibili o investimenti ISG, si è partiti da un po' lontano. Siamo partiti diversi anni fa con quelli che venivano definiti i social responsible investment, o in italiano investimenti socialmente responsabili. Erano degli investimenti che miravano molto ad un approccio di tipo assiologico, con un approccio di negative screening, quindi andando ad identificare quelle che erano le imprese che non potevano o non rappresentavano un paniere di investimento, escludendole si andava ad identificare un paniere su cui potenzialmente si poteva andare ad investire. Era un approccio ribadisco molto fondato su principi etici, morali, altresì giuridici, che però è un di cui di tutto il criterio ISG o i fattori ISG. Agli investimenti socialmente responsabili nel corso del tempo si sono creati, nati, gli altri tipi di investimento che possiamo definire i cosiddetti investimenti ad impatto. Gli investimenti ad impatto avevano e hanno tutt'oggi una caratteristica molto particolare, che al di là del tema del rendimento, quello che è il loro purpose, il loro scopo nell'investire, è appunto quello di generare nel medio e lungo termine un impatto positivo, che sia sull'ambiente, che sia sugli aspetti sociali o altresì sugli aspetti di governance, come adesso sono i criteri ISG. Da tutto questo cosa è nato? È nato l'acronimo appunto ISG, che rappresenta quindi la parte environmental, ambientale, social, sociale e governance. Qual è stato il passaggio di paradigma, no? Un po' tra l'investimento socialmente responsabile all'investimento ISG. Un approccio che va dal negative screening, come abbiamo visto, a un positive screening. Quindi non più un principio ad excludendum di quelle che sono le imprese su cui non si può investire, ma un principio molto più olistico, che vada a capire per ogni singola impresa quali sono i fattori ambientali, sociali e di governance. Una volta compreso quelli che sono i fattori, per l'investitore, oggi sono le banche, gli istituti finanziari, i fondi di investimento, è più semplice, logicamente, orientare questo tipo di investimento. Tutto nacque, ovviamente, come sappiamo, in particolar modo dall'accordo di Parigi del 2015, dove sono stati esposti ovviamente i 17 obiettivi di sviluppo sostenibili. Da quel momento ad oggi, quindi parliamo dal 2015 al 2023, quello che oggi si vede sul mercato è che l'attenzione ai criteri ISG sta diventando un fattore determinante e altresì discriminante per avere un finanziamento da parte dell'impresa stessa o per lo stesso investitore per poter investire in maniera idonea verso quella impresa. Chiarissimo, ha fatto riferimento appunto all'accordo di Parigi, si parla appunto di qualche anno fa, adesso poi tutto l'impianto normativo naturalmente è evoluto nel tempo. Io faccio riferimento tra l'altro alla direttiva europea che è stata approvata nel novembre del 2022 e che impone appunto alle imprese obblighi di comunicazione dettagliata proprio sulle performance sociali e ambientali di governance. Ecco, veniamo proprio a questo aspetto, insomma, allo stato dell'arte attuale e soprattutto gli sviluppi futuri, lato imprese e lato bancario finanziario. Assolutamente. Cominciamo nel dire che la CSRD, la direttiva sulla responsabilità sociale d'impresa o comunque sulla comunicazione della sostenibilità d'impresa, è l'ultima fase che parte dall'accordo di Parigi, passa per il Green Deal europeo e passa poi per il pacchetto della finanza sostenibile della Commissione europea. Siamo arrivati poi alla CSRD, una direttiva che, senza mezzi termini, dottoressa, apre un po' il vaso di Pandora del tema della sostenibilità. Perché? Perché la CSRD compie dei passi più che in avanti quasi avanguardistici sotto un certo punto di vista. Perché oggi abbiamo vissuto un momento e soprattutto un obbligo normativo di quelle che oggi vengono definite dichiarazioni non finanziarie dove sono obbligate sostanzialmente circa 11.000 imprese appunto a produrre questa dichiarazione non finanziaria allegandola poi al bilancio d'esercizio in una sezione separata. La CSRD va a quintuplicare questo numero di imprese e quindi arriviamo quasi a potenzialmente 50.000 imprese che saranno obbligate alla redazione del bilancio di sostenibilità. Però perché è importante la direttiva CSRD? Non solo perché è ampia di 5 volte tanto il numero e il novero dei soggetti obbligati ma perché compie dei passi in avanti molto interessanti da un punto di vista qualitativo della rendicontazione di sostenibilità. Perché oltre al dimezzare il numero di dipendenti delle imprese che poi saranno soggette oggi al bilancio di sostenibilità prima di tutto va a colmare tre lacune emerse da quelle che sono oggi le normative vigenti. Quali sono queste lacune? Innanzitutto le lacune provenienti appunto dalla scarsa qualità di informazioni che possono provenire dalle dichiarazioni non finanziarie. Quindi la CSRD vuole andare a colmare questo tipo di lacune cercando di capire come i fattori esterni all'azienda in termini appunto di sostenibilità possano influire le attività stesse dell'azienda e di come l'azienda stessa possa in qualche modo rispondere a questi fattori utilizzando diciamo il principio della doppia materialità se proprio vogliamo dire. La CSRD però fa ancora di più da delle tappe molto ben precise tappe che oggi diventano oggettivamente non prorogabili e non procrastinabili. Sappiamo che dal 1 gennaio 2024 le imprese che oggi già compiono la dichiarazione non finanziaria saranno obbligate a produrre il bilancio di sostenibilità. Dal 1 gennaio 2025 le imprese con 250 dipendenti in su e 40 minuti di fatturato saranno obbligate a produrre la dichiarazione di sostenibilità e da qui in avanti in 2026, 2027, 2028 si arriverà ad avere un paniere composto anche di tutte quelle piccole e medie imprese quotate ad eccezione delle micro imprese e un dato molto significante ovvero sia il convolgimento della CSRD anche delle imprese extra UE. Cosa significa questo? Che il tema della sostenibilità per quanto normato all'interno del mercato europeo va a coinvolgere inevitabilmente anche imprese non appartenenti al mercato europeo che però nel mercato europeo competono e allora qui si capisce che più che 50.000 imprese potenzialmente parliamo di un numero molto ma molto più ampio. Ulteriore passo in avanti della CSRD qual è? Non solo quello di concentrarsi soggettivamente sulla singola impresa ma quello di dire alla singola impresa attenzione perché gli obblighi di bilancio di sostenibilità di rendicontazione di sostenibilità e quindi di tutta una serie di dati della vostra impresa devono essere corroborati dai dati delle vostre catene di fornitura. Questo cosa significa? Che, e questo piace sempre dirlo non parliamo quindi di 50.000 imprese che saranno obbligate al bilancio di sostenibilità parliamo tendenzialmente di 50.000 catene di fornitura a livello europeo e sappiamo benissimo che oggi una micro imprese una piccola imprese, una media impresa può far parte di più catene di fornitura ecco perché qui viene in gioco quel concetto di sistema esattamente e di obbligo indiretto in particolar modo perché se io guardo solo la parte di obbligatorietà soggettiva mi rendo conto che ci sono delle imprese che dal prossimo primo gennaio per quest'anno e poi per i successivi saranno obbligate alla redazione del bilancio di sostenibilità però c'è un obbligo indiretto che grava sulle micro, piccole e medie imprese facenti parte di queste catene di fornitura ecco perché molto spesso parlando anche per l'attività che svolgiamo sia lato consulenza sia lato provider quando una piccola impresa si affaccia al mondo del rating SG o dei criteri SG molto spesso ci dice che non è oggettivamente oggi obbligata non constatando il fatto che un obbligo indiretto spesso e volentieri è molto più incidente di un obbligo normativo espresso appunto e direttamente applicabile a un'impresa quindi quello che posso dire oggi è che la CSRD ha aperto il vaso di Pandora nella misura in cui non parliamo più di un'impresa singola ma parliamo come diceva lei giustamente dottoressa di sistema sistema di sostenibilità che coinvolge il grande committente e coinvolge tutta la propria catena di fornitura ecco perché partire oggi sicuramente rappresenta un vantaggio competitivo poi per tutte quelle imprese che domani avranno già a disposizione questi dati chiarissimo ecco abbiamo parlato appunto di obbligo normativo però facevamo accenno ecco nell'introduzione in realtà proprio ecco di cultura non solo ecco di approcciarsi alla sostenibilità come un parametro da rispettare ma come una vera e propria sfida per le imprese e quale può essere il vantaggio competitivo ecco per le imprese che rispettano già i criteri ESG sono molteplici sia endogeni che esogeni che significa sia dei riflessi interni all'azienda stessa sia all'esterno dove l'azienda si va a posizionare quindi sia sul mercato sia rispetto agli operatori bancari e finanziari con cui giornalmente magari ha a che fare sappiamo tutti che oggi la sostenibilità aziendale è diventata oggettivamente una strategia dell'azienda una strategia che l'azienda stessa percorre porta avanti implementa e cerca di rendere sempre più appunto sostenibile in tutte le sue varianti siamo partiti da un concetto che è quello della responsabilità sociale d'impresa che però ha dimostrato se mi posso permettere un po' di lacune nella misura in cui il tema era molto più di tipo etico morale e poco di tipo pratico oggi la parte della sostenibilità la parte di criteri ESG ha un risvolto pratico per un motivo molto evidente perché oggi già dal giugno del 2020 parliamo quindi quasi di due anni e mezzo fa ci sono delle linee guida dell'autorità bancaria europea che impongono alle banche di inserire i criteri ESG nel monitoraggio e questa è una cosa fondamentale e nella concessione del credito alle imprese questo cosa significa? che un'impresa che oggi vorrebbe accedere a una forma di finanziamento da parte di una banca, di un istituto finanziario aggiungo anche il tema delle assicurazioni da non sottovalutare deve riuscire a produrre determinati dati ESG che consentono poi alle banche stesse e agli istituti finanziari di poter erogare credito perché oggi la direttiva è molto chiara e non parlo della direttiva in termini di normativa parlo della direttiva europea che si sta tracciando tutti quelli che saranno i finanziamenti da oggi in poi e ci metto all'interno anche quelli che sono i finanziamenti del PNRR dovranno seguire indissolubilmente una linea di sostenibilità e quindi dovranno andare a finanziare quelle imprese che rispetto ad altre si dimostrano più sostenibili ma la partita non si gioca solo all'anno 1 quindi all'ottenimento del finanziamento la linea guidaeba è molto chiara su questo concessione e monitoraggio del credito che significa questo? che se un finanziamento di media diciamo 5-7 anni come può essere un finanziamento classico che abbiamo in Italia ha quindi 5-7 anni di sviluppo la banca, l'istituto finanziario anno su anno dovrà richiedere all'impresa i dati ESG i rating ESG per avere che cosa? per avere contezza di quello che è il grado di rischio che la banca stessa sta assumendo finanziando quell'impresa stessa grado di rischio che sarà sempre di più legato a doppio filo al rating ESG o ai dati ESG dell'impresa e questo è un primo valore esogeno quindi all'esterno di come l'impresa può rapportarsi all'esterno qual è il valore interno dell'impresa? il valore interno è quello di riuscire a creare un nuovo modello di business perché io sostengo da sempre che i criteri ESG non sono un obbligo o diciamo una certificazione in più i criteri ESG sono una ritrovata forma di modello di business che porterebbe e potrà portare a mio modo di vedere le imprese ad avere una visione di medio-lungo termine cosa che oggi purtroppo non c'è nell'impresa italiana l'impresa italiana ha 96% di piccole e medie imprese poco strutturate dove il principio cardine ottimizzo i costi e massimizzo i profitti tutto questo poteva andar bene fino a qualche anno fa se oggi andiamo a vedere i piani economici finanziari 2020-2022 sono saltati tutti a caso della pandemia ancora di più a causa della guerra quindi quello che oggi c'è bisogno è di un modello di business che non orienti la sua predisposizione verso il futuro a 2-3 anni occorre una predisposizione verso il futuro almeno di 5-10 anni perché l'impresa deve capire cosa sta andando a fare nel corso del tempo perché abbiamo degli obblighi normativi a livello dell'Unione Europea 2030-2050 e soprattutto perché banche, finanze e assicurazioni richiedono inevitabilmente la presenza di questi criteri all'interno delle imprese insomma bisogna meritarselo il finanziamento alla fine e giustamente il parametro come dicevamo prima non può essere solo quella della performance finanziaria ma ci sono ormai altri criteri, altri parametri che devono essere valutati tra l'altro in un periodo particolarmente complesso come ha accennato lei tra pandemia, guerra soprattutto ecco il grande tema dell'inflazione abbiamo parlato appunto di finanziamenti con i tassi di interesse che crescono insomma che continuano a crescere anche BC e Fed lo hanno detto è per questo anno non si tira molto indietro la linea ancora ci sarà una linea aggressiva e quindi ecco tutto questo contribuisce insomma a delineare delle nuove necessità e giustamente anche dei nuovi parametri a proposito ecco di grande imprevedibilità dello scenario parliamo del tema della resilienza è vero che le aziende e le imprese che adottano i criteri ISG sono più preparate ecco rispetto all'imprevedibilità dello scenario e riescono a reagire anche ai colpi che arrivano dall'esterno che sono non appunto prevedibili come la pandemia come la guerra potremmo citare delle altre variabili assolutamente vorrei fare una piccola precisazione su questo ovvero sia che i criteri ISG di per sé non sono come magari altre tipologie di obblighi un semplice bollino da porre per essere diciamo qualitativamente migliori agli occhi dell'esterno i criteri ISG riportano all'interno di essi tutta una serie di attività appunto sulla parte ambientale sulla parte sociale e sulla parte di governance che insisto sul concetto forse stressandolo un po' ma ci tengo vanno a ridefinire un modello di business e giustamente dottoressa quando lei parlava di resilienza a me viene in mente un esempio molto semplice ma di forte impatto quando è scoppiata la pandemia e soprattutto quando è scoppiata la guerra 24 febbraio parliamo di oltre un anno fa purtroppo ormai ci sono state grandi imprese energivore che si basavano quasi esclusivamente su fonti fossili è chiaro che lo scoppio della guerra ha determinato per queste grandi imprese un fortissimo declino in termini di fatturato, in termini di produttività per ovvie ragioni proprio per l'incertezza del mercato per i prezzi estremamente alti e sempre in aumento lato energia e quant'altro ci sono state invece imprese medie, piccole che nel corso degli anni, proprio per l'attenzione ai criteri SG che non significa solo avere un rating ma significa implementare tutta una serie di attività sono passate da fonti fossili a una percentuale molto interessante di fonti rinnovabili cosa ha permesso a queste imprese di portare avanti l'attività rispetto alla grande impresa? proprio questa attenzione qualche anno prima a un passaggio ambientale da fonti fossili a fonti rinnovabili questo ha permesso alle medie imprese che hanno fatto questo passaggio di transizione energetica possiamo chiamarlo o ambientale che dir si voglia di poter essere più resilienti sul mercato per quanto magari molto più piccole rispetto alla grande impresa grande impresa che si è trovata dal giorno 1 dopo lo scoppio della guerra a dover fare i conti effettivamente con dei margini che con il costo dell'energia che si stava ampliando e di tutte le materie prime che come abbiamo visto si sono non raddoppiate ma diciamo quintuplicate ha subito forti scossoni di mercato perché è poi ancora più resiliente l'attenzione o crea più resilienza l'attenzione ai criteri SG da parte delle imprese per un motivo anche qui molto economico finanziario per i tassi di interesse perché le imprese oggi attente alla sostenibilità attenti credere SG che hanno un livello un rating SG di un certo tipo godono e questo non lo dico io ma lo dicono anche diversi prodotti che stanno nascendo da parte delle banche di tassi di interesse sicuramente migliori e a condizioni migliori rispetto a quelle imprese che chiedono dei finanziamenti senza avere nulla da parte diciamo di dati da parte dei criteri SG ecco perché il tema delle resilienze è importante per le imprese perché da un lato in termini esterni consente loro di avere un risparmio in termini di costi ad esempio di finanziamento ma anche di premi assicurativi se immaginiamo a tender all'interno poter permettersi di essere resilienti in momenti di shock sul mercato e poter raffrocciare il mercato appunto con delle forme diverse alternative sostenibili che però gli consentono di mantenere la produttività nel corso del tempo quindi ecco è un disegno a lungo termine assolutamente sì è molto importante sottolinearlo abbiamo detto che inevitabilmente la parola sostenibilità insieme ai criteri SG sono dei termini chiave per capire lo scenario attuale in cui ci stiamo muovendo insieme a un'altra parola che utilizziamo sempre ovvero digitalizzazione e rivoluzione digitale ecco io dottor Toschi le chiedo se appunto questi due termini sostenibilità e digitalizzazione vanno a braccetto ed effettivamente poi come si concretizza ecco questo rapporto questa unione sono due facce della stessa medaglia sotto un certo punto di vista sono due ambiti completamente diversi ma sono due ambiti fortemente integrabili tra di loro faccio un esempio molto puntuale sul settore energetico abbiamo visto che la digitalizzazione nel corso del tempo ha permesso sia la parte eolica sia la parte del fotovoltaico di avere un abbattimento del costo appunto dell'eolica del fotovoltaico rispetto al carbone che nel corso degli ultimi dieci anni si è abbassato dell'oltre 883% questo è stato permesso grazie a che cosa? alla digitalizzazione di questi prodotti perché sappiamo benissimo che la digitalizzazione potrebbe consentire da qui ai prossimi anni di abbattere anche oltre il 20% delle emissioni di gas serra all'interno del mercato europeo la digitalizzazione quindi è un driver che assieme alla sostenibilità porta all'impresa ribadisco un nuovo concetto aziendale capire come unire i due mondi oggi non è molto difficile per il semplice motivo che la sostenibilità e la misurazione dei criteri SG la misurazione della sostenibilità passa anche attraverso prodotti digitali come per esempio quello che possiamo avere noi in termini di provider ma oltre a quello ci sono tutta un'altra serie di infrastrutture informatiche comunque digitali che consentono alle imprese di avere dati chiari monitorabili e soprattutto in qualche modo trasparenti verso l'esterno quindi digitalizzazione da una parte e sostenibilità credo rappresentano la vera parola finale ovvero sia di transizione economica finanziaria all'interno di un'impresa insomma sono due elementi che si alimentano reciprocamente e che contribuiscono insieme a creare quel sistema di cui appunto parlavamo poc'anzi ecco lei dottor Toschi è anche componente del CDA del ISG Portal che è la società che vale tutte le componenti ambientali sociali e di governance delle aziende quindi ecco le chiedo dalla sua prospettiva privilegiata di osservatore qual è lo stato ecco delle imprese italiane ricordando tra l'altro che per questa sua funzione siete stati anche premiati ai nostri Le Fonti Awards ecco quindi dal suo osservatorio privilegiato adesso la situazione a livello delle imprese italiane qual è? Diciamo che quando siamo stati premiati era giugno non era ancora stata approvata la direttiva la CSRD quindi già avevamo visto un grande movimento facendo appunto noi rating ISG alle imprese avevamo visto un grande movimento soprattutto da quelle che erano le grandi imprese che cercavano poi di capire a seconda di quelli che sono i vari modelli che oggi ci sono sul mercato quello che poteva essere per loro il più funzionale e poi è scoppiato però il caso della CSRD quindi si è aperto come dicevamo all'inizio il vaso di Pandora a quel punto abbiamo visto un proliferare di imprese che ci chiedevano e ci chiedono tutt'oggi rating ISG che vanno dalla grande impresa alla media impresa alla piccola impresa e come stiamo vedendo ultimamente anche alle imprese quotate imprese quotate che hanno una esigenza se ci pensiamo sotto questo punto di vista perché per un'impresa quotata la parola chiave qual è? trasparenza perché devono rendere conto logicamente a quelli che sono gli stakeholder e gli shareholder della propria società quindi abbiamo visto un movimento molto importante una crescita molto importante di richieste e quello che oggi stiamo vedendo come ISG Portal è un'attenzione molto importante ribadisco al tema della supply chain quindi abbiamo moltissime imprese che al di là dell'attenzione quindi del rating della propria impresa che viene fatto ci chiedono di organizzare appunto tutto un percorso che vada a coinvolgere la propria catena di fornitura a noi questo viene tendenzialmente semplice nel senso che avendo una piattaforma già integrata con tutte quelle che sono gli obblighi o comunque le normative presenti nella CSRD noi possiamo dare al grande committente uno strumento che consenta a lui di poter monitorare le performance sia della propria impresa sia di tutta la catena di fornitura quello che stiamo vedendo e che vedremo secondo me sempre più in là è un'attenzione sicuramente della grande impresa ma come dicevo all'inizio dottoressa in forza di un obbligo indiretto saranno sempre più le piccole imprese le medie imprese che cercheranno di accelerare questo loro percorso per un motivo molto semplice per non trovarsi impreparati nel momento in cui la grande impresa chiede loro i dati di ISG chiarissimo appunto l'abbiamo detto sono il tessuto poi economico l'italiano le piccole e medie imprese ma trovandosi in un sistema che impone un determinato obbligo devono per forza sottostare perché se no si ritroverebbero fuori ecco completamente eliminate quindi appunto è una necessità oltre che lo ribadiamo ancora una volta uno sforzo anche di cultura che dobbiamo diffondere nel tessuto imprenditoriale italiano esattamente e una cosa che ci tengo a dire è proprio questa nel senso che oggi è vero che c'è un'attenzione da parte diciamo della parte economico-finanziaria è vero che c'è un'attività molto importante che deve essere tenuta conto sul termine del fatturato della produzione ma il tema ISG ha una valenza estremamente importante su un altro aspetto che è il tema della reputazione dell'azienda reputazione dell'azienda immagine dell'azienda che dir si voglia che oggi è uno degli asset intangibili più importanti per l'azienda stessa che sia quotato o che non sia quotato oggi il brand il marchio l'immagine la reputazione di un'azienda fa tutta la differenza del mondo e questo l'abbiamo visto vedendo gli ultimi dati nel corso degli ultimi anni è cresciuto del 33 quasi 34% la domanda da parte dei consumatori di prodotti green da parte dei grandi marchi anche e soprattutto ecco i consumatori più giovani quelli della generazione Z sono attentissimi a questo tipo per fortuna certamente a questo tipo di esigenza e quindi premiano giustamente le imprese i marchi che puntano su questo tipo di valori e penalizzano invece chi non sta al passo con i tempi e non hanno nessun tipo di come dire visibilità su quello che è il tema della produzione del fatturato loro guardano l'approccio sostenibile del marchio del brand e dell'immagine che il brand vuole rilasciare questa è la sfida che hanno davanti le imprese e che tendenzialmente abbiamo davanti tutti noi assolutamente a livello nazionale e internazionale perché non siamo solo inseriti in un panorama di unione europea ma come ricordava prima ormai è diventato insomma una necessità a livello internazionale io dottor Toschi la ringrazio molto per l'analisi che ci ha fornito su appunto questo tema decisivo per capire il presente ovvero sostenibilità e criteri ISG la ritroveremo per continuare a parlare naturalmente di futuro la ringrazio ancora Alessandro Toschi CEO e founder di AM Advisor grazie per essere stato con noi grazie a lei grazie a voi bene si conclude qui questa puntata del nostro Instant Focus non alla programmazione di Le Fonti TV che continua e allora naturalmente restate con noi grazie a tutti